Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Gestione di UbiBanca per Affari Italiani. Quali riflessioni sulle relazioni annuali di Banca d'Italia e Consul? Due relazioni che mettono in luce le criticità della nostra economia, le fragilità, ma mettono in luce anche i progressi fatti, sia in termini di occupazione che in termini di crescita. Sono relazioni che mettono in evidenza la necessità di tutelare il risparmio, importante per la crescita delle imprese. Sono relazioni che vogliono rilanciare il mercato, la relazione Consul parla di un rilancio del mercato per il quale è necessario sicuramente aumentare la consapevolezza dell'importanza di avere meno debito sia per le imprese che come debito pubblico. In questo quadro è importante la crescita dimensionale anche delle PMI? Sì, mi sembra interessante la novità introdotta dal Presidente Consob che parla proprio di sostegno e di aiuto da parte della Consob alle medie e piccole imprese. Sono considerazioni che naturalmente fanno capire al mondo finanziario e alle banche quanto sia importante il sostegno del mondo finanziario e delle banche stesse. Noi come UBI quindi siamo presenti proprio per sostenere la crescita delle imprese, per sostenere l'innovazione e per sostenere politiche di welfare che sono meno sostenibili da parte dello Stato. Grazie.